Buongiorno a tutti dalla redazione di La Sette, mercoledì 15 novembre. Oggi sui giornali ci sono almeno quattro argomenti. In primo piano sicuramente lo sciopero dimezzato, ridotto a quattro ore da parte di Matteo Savini. Quello che ieri vi abbiamo raccontato come un braccio di ferro tra il segretario generale della CGL e il ministro e vicepremiere Salvini è diventato in realtà un muro contro muro, uno scontro in campo aperto. Leggeremo oggi sia l'opinione dell'una, intervistato da Libero, sia invece i proclami dell'altro. Leggeremo anche, e lo faremo da alcune interviste che trovate sui giornali, le motivazioni del sciopero che viene dimezzato, espresse dallo stesso garante, cioè la persona che oggi verrà audita poi davanti alla Commissione. Cominciamo a dare una foto della giornata, la prendiamo dal messaggero in questo caso, perché oltre alla politica italiana c'è ancora la guerra tra Israele e Hamas. Il primo piano, ecco la prima del quotidiano diretto da Martinelli, Gaza, annuncio di Biden sugli ostaggi presto liberi. Questo è uno dei temi della giornata, assieme al viaggio di Xi Jinping negli Stati Uniti per incontrare proprio il presidente Biden verso l'apertura dei canali militari con tanti segnali che si leggono quest'oggi prima dell'incontro. Tante notizie anche di cronaca però quest'oggi. Intanto ne prendiamo una dal taglio centrale del messaggero, l'uccisione di Aurora picchiata a morte dai genitori in culla e cercheremo di leggere qualcosa in più su questo. L'altro fatto di cronaca è la morte in fabbrica di un'altra ragazza di appena 26 anni, Anila, rimasta schiacciata all'interno di un macchinario in provincia di Treviso e subito sopra, per ricordarci che esiste ancora tra l'altro la guerra in Ucraina, Putin che grazie al killer di Anna Politkoskaya ha combattuto in Ucraina e dunque ora l'assassino della giornalista è in libertà. Tutti questi temi li ritroviamo ovviamente anche sugli altri giornali con chiavi di lettura a volte molto diverse, sciopero e scontro totale, titolo e Corriere della Sera, Salvini precetta i lavoratori, stop di quattro ore, CGL e UIL, andiamo avanti con la protesta. Un altro argomento del giorno è il tema economico, Giorgetti, ministro dell'economia, che dice è possibile un ritocco al ribasso del nostro prodotto interno lordo. C'è oggi sul quotidiano di via Solferino anche un'intervista a Elie Schlein che racconta più dei motivi dello sciopero, come la destra stia frenando il paese, servono più risorse della sanità. Un altro argomento sicuramente in primo piano è quello che arriva da Padova, ieri si è aperto il processo per quelle udienze, per quelle mamme di arcobaleno che chiedono riconoscimento anche della compagna di chi ha effettivamente partorito, i PM hanno chiesto al giudice che il tema arrivi alla consulta, cioè alla Corte Costituzionale. Una svolta giudiziaria per molti che ovviamente viene letta a seconda dell'appartenenza politica di chi scrive in maniera molto diversa. E leggeremo anche questo. Savini va allo scontro, è la lettura che fa Repubblica oggi sulla Notizia del Giorno, muro contro muro con CGL e UIL sullo sciopero. Il vicepremiere impone la precettazione, Landini parla di atto gravissimo. Giorgio Meloni in silenzio, Giorgetti invece si smarca a stenersi dal lavoro illegittimo, dice i tecnici del Parlamento criticano la manovra. C'è anche un interessante focus sul Ministro della Difesa che parla delle forze armate, forze armate da rifare, il suo progetto è una riserva pronta a mobilitarsi, scrive oggi Gianluca Di Feo. Già visto il messaggero, andiamo sulla stampa, primo piano dedicato allo sciopero, anche in questo caso, Savini che è di mezzo allo sciopero, è vicina alla liberazione degli ostaggi, titola oggi il quotidiano, assedio israeliano agli ospedali di Gaza, fossa comune dal scifa scontro tra i diplomatici americani su Netanyahu. C'è, e lo prendiamo da qui, dal quotidiano di Torino, perché questa foto oggi è impossibile eluderla dalla lettura dei giornali, il nostro Yannick Sinner che batte Djokovic insieme al suo tabù per la prima volta agli ATP Finals, il tennis è dei ventenni, un ATP Finals che diventano a questo punto molto molto interessanti. Dalla stampa al giornale, torniamo al tema politico, la stretta di Salvini, titolo d'apertura, braccio di ferro sullo sciopero, Landini diserta il vertice, e il ministro decide di precettare. Come vedete la fotonotizia in alto, in taglio alto nella pagina, riguarda gli ostaggi, uno dei temi principali di oggi sulla trattativa piomba il video, il video di chi? Di questa ragazza, un altro ostaggio ucciso da Hamas o, come dice Hamas, da uno dei tanti bombardamenti nella striscia da parte di Israele. Temi economici, dicevamo, andiamo sul sole 24 ore, Giorgetti che dice due terzi dei fondi manovra erediti più bassi insieme all'allarme lanciato già ieri dal quotidiano di Confindustria, bisogna dirlo, sui conti. E' anche questa interessante notizia per i dirigenti della pubblica amministrazione fino a 15.000 euro a Natale, aumenti che riguardano gli arretrati medi e 1.500-2.000 euro di anticipi. Ancora Milano Finanza, che ieri lanciava una serie di avvertimenti riguardo al debito tedesco e soprattutto sui trucchi contabili che vengono utilizzati per sfilare una sessantina di miliardi dal conto, stop ai banchieri inadatti al titolo di oggi, ma insiste il direttore scrivendo oggi perché Meloni, prima del MES, dovrebbe chiedere risposte sugli istituti tedeschi e di questo cercheremo di leggere qualcosa di più. Nella seconda parte della nostra edicola, quella dedicata all'approfondimento. Protesta immotivata, scrive Il Tempo di Roma, precettati, Salvini accorcia lo sciopero, GGL e Will tirano dritto, inviata la lettera per fermarli e lo sgarbo dei due segretari all'incontro con il ministro mandano i loro delegati. Il Fatto Quotidiano, apertura completamente in controtendenza, niente test neonatale, i bimbi muoiono prima. Di cosa parla oggi Il Quotidiano di Travaglio? Di decreti che mancano, ci sono nove regioni che non fanno lo screening. In questo caso, il bambino si chiamava Ettore, aveva 35 giorni, era nato in Veneto, era malato di SMA. Tra le 49 patologie che non vengono monitorate da sette anni, la legge è ferma, denuncia Il Quotidiano. Torniamo al libro. Abbiamo detto che c'è un'intervista a Matteo Sabini, eccola qui, l'intervista vicepremier che dice chi blocca l'Italia paga, è uno sciopero PD, CGL, precettiamo e sanzioni a chi viola le regole. Una minoranza politicizzata, dice Salvini, non può ledere il diritto della maggioranza a muoversi. E poi c'è un focus, un attacco ai sindacati, i bilanci oscuri dei sindacati, regole forzate per incassare dagli iscritti. L'apertura di domani è ancora su questo tema. Salvini precetta, Landini non cede, Cofferati, intervistato dal Quotidiano, dice lo sciopero è un sacrificio, vanno rispettati i lavoratori. Il ministro dei Trasporti insiste, promette di stoppare lo sciopero generale, ma CGL e Will non si piegano, sono già pronte le precettazioni. L'ex segretario, Cofferati, intervistato per l'appunto da Daniele Preziosi, dice il garante è stato condizionato dal leghista. Da domani ha la verità che parla di un Landini che si piegò al Green Pass, ricorda il quotidiano l'inchino, così viene raccontato a Mario Draghi, ora blocca l'Italia per i bonus. Il sindacalista che scodinsolava con Draghi e lasciava calpestare i diritti dei lavoratori sul Green Pass accampa a motivazioni fumose per una mobilitazione solo politica che gli spiani la strada verso la traballante poltrona dell'Hash Line. Questa è una delle chiavi lettura che leggeremo, non è solo la verità a proporla, ma anche altri commentatori. Dal mattino, sciopero di 4 ore, l'apertura, ci sono anche altre notizie sul quotidiano napoletano, prendiamo il caso del giorno e ve lo leggeremo, Aurora morta in culla per le botte arrestati i genitori, succede a Santa Maria Vico su una bambina di 45 giorni sulla quale sono stati trovati lividi e ustioni, la giovane coppia è accusata di omicidio volontario e poi la svolta sorpresa di Mazzarri che torna sulla panchina del Napoli. L'altro caso di cronaca l'abbiamo già visto su qualche giornale, lo prendiamo da Gazzettino, lì a Padova il quotidiano del nord-est ci racconta purtroppo della mamma stritolata da macchinario morta a 26 anni in un'agenda di surgelati di Pieve di Soligo credo si dica così o Soligo mamme arcobaleno svolta della procura parola alla consulta è l'alta notizia del giorno perché proprio da Padova arriva le udienze sulla legittimità degli atti di nascita la palla ora passa o meglio il PM ha chiesto al giudice che passi alla Corte Costituzionale dunque ancora tutto da decidere questo caso dal resto del Carlino CGL e Will scioperano Salvini precetta e la foto notizia del giorno come sempre per il quotidiano nazionale è dedicata oggi a un fatto di cronaca vi prego tornate quei due scomparsi Giulia e Filippo due ragazzi veneti scomparsi visti insieme purtroppo litigare l'ultima volta con tanti timori per la loro sorte l'avvenire ci ricorda invece che esiste ancora la guerra in Ucraina una guerra dimenticata per il quotidiano della CEI Unione Europea ancora in ritardo nei programmi di sostegno con la Nato che ha ammesso la situazione è difficile e le tante storie Kiev rischia di perdere il controllo di un'altra città Izium già devastata e ora anche l'avvento divide i due fronti ancora qualche prima pagina prima di fermarci per un po' di pubblicità altro che misura approvata dai partner europei il Consiglio d'Europa demolisce l'intesa sui migranti firmata da Georgia con l'Albania oggi Gaetano Pedullà scrive firma così la sua apertura sul quotidiano la notizia e l'unità scatta la precettazione il governo ha perso la testa per Stefano Sanzonetti precettola qualunque un gioco di parole che ci riporta un film di successo per il manifesto solito titolo a effetto per raccontare la mossa del ministro Salvini chiudiamo con lo sport abbiamo detto di Sinner un magico Sinner in apertura della Gazzetta pazzesca vittoria su Djokovic alle ATP Finals di Torino ma poi a tutta pagina c'è Mazzarri che torna a Napoli giro di Walter il gioco di parole usato per il ritorno di Walter sulla panchina partenopea a tra poco con il nostro approfondimento ben trovati eccoci tornati in diretta con i giornali impariamo a conoscere questa figura lei si chiama Paola Bellocchi è la presidente del consiglio di garanzia la persona che ha deciso che lo sciopero proclamato da CGL e CISL non era uno sciopero generale cosa che ha prodotto poi le conseguenze politiche che tutti abbiamo analizzato nei titoli dei quotidiani troppi istruttori esclusi per definirlo uno sciopero generale le proteste del venerdì è già stata avviata un'istruttoria leggiamo allora perché la presidente Paola Bellocchi ha preso questa decisione perché avete bocciato lo sciopero generale di CGL e Will di venerdì 17 ho detto CISL chiedo scusa è la Will non è una bocciatura a fine ottobre abbiamo esaminato il documento di proclamazione della protesta e da subito c'è parso che non corrispondesse a uno sciopero generale ma fosse uno sciopero solo di alcune categorie altri infatti si erano già organizzati in ulteriori altre 20 proclamazioni di scioperi generali regionali e questo cosa significa chiede ovviamente il giornalista che non tutto il mondo del lavoro è stato chiamato a scioperare venerdì 17 sono state escluse ben 16 categorie del settore privato manca quindi il requisito della generalità è un tecnicismo però è fondamentale per quello che decide la presidente della commissione gli scioperi di settore hanno una disciplina diversa più restrittiva rispetto a quella per gli scioperi generali per i quali la commissione di garanzia definì una delibera con regole più favorevoli proprio per permettere a tutti i lavoratori di esercitare il diritto di sciopero a uno sciopero generale è consentita quindi la concomitanza per far aderire tutte le categorie ed è consentita una durata di 24 ore per gli scioperi di settore i limiti sono molto più stretti massimo 4 ore per la prima azione di sciopero ad esempio il trasporto pubblico locale allora capite perché da lì discenda tutta una serie di reazioni non solo da parte del ministro Salvini sciopero dimezzato siamo sulla stampa ovviamente la notizia la conosciamo ma vogliamo farvi vedere questa infografica che spiega in maniera dettagliata cosa andiamo incontro venerdì 17 con le proteste a seconda delle regioni in giorni diversi e soprattutto i settori che al momento sono esclusi dallo sciopero generale e ognuno può leggere ovviamente comprando un quotidiano cosa che vi invito a fare sempre quali sono le categorie interessate quelle che invece rimarranno al lavoro Matteo Salvini non lascia raddoppia oggi sul libro attacca ancora di più i sindacati dice sì alla precettazione a chi blocca l'Italia arriveranno le multe rilancia due risposte interessanti la prima è di fatto una risposta alle accuse che sono state lanciate di commissione con la stessa commissione di garanzia Salvini dice non conosco affatto la presidente del consiglio di garanzia l'ho detto e l'ho spiegato anche ai sindacati e sul fatto che dietro a questa minaccia dei sindacati stia muovendosi il partito democratico dietro a questo sciopero ci vede lo spettro del PD risponde Salvini è uno sciopero PD-CGL chissà se Landini si candiderà con il PD per le europee vedremo risposta interessante perché altri commentatori oggi intravedono dietro l'azione di Landini proprio un tentativo futuro di sfilare la poltrona di segretario Eilish Line il gelo di meloni per i toni del leghista che infiammano la piazza antimanovra oggi Tommaso Ciriaco ci racconta invece delle mosse della presidente del consiglio su questo c'è tutto un retroscena raccontato anche se alla fine della ricostruzione in maniera molto onesta Tommaso Ciriaco racconta dal Quirinale negano questa ricostruzione certo è che nel corso della giornata arriva prima una dichiarazione di Giorgetti poi quella dello stesso Salvini che dice vogliamo trovare un equilibrio tra diritto allo sciopero e diritto al lavoro e alla mobilità la sostanza resta la limitazione imposta dal ministero la forma è lontana dalla teoria del weekend lungo dei giorni scorsi la scelta della premier comunque sarebbe dettata dalla volontà di non esporsi troppo per non dare troppo peso alle sortite del suo vice premier ecco l'Eli Schein allora intervistata non parla dello sciopero Maria Teresa Meri le pone molte domande tra le tante risposte la segretaria PD dice Meloni scardina la carta no a un capo solo al comando scuola sanità lavoro da noi una contro manovra ci sono tante risposte interessanti di Eli Schein in particolare quella sul premierato sulla quale sicuramente il PD ha trovato una compattezza diversa anche con le altre opposizioni ho già detto che Meloni vuole comandare e non governare e lei ha risposto che in realtà vuole dare solo più potere ai cittadini ma ricordo che nell'unico incontro in cui ci hanno convocato tra le proposte che abbiamo apportato a quel tavolo c'era la riforma della legge elettorale per far scegliere ai cittadini i loro rappresentanti ma di questo Meloni non parla mai dice Eli Schein certo lei è saldamente al comando di un partito personale e con le liste bloccate decide chi va in Parlamento allora non sia ipocrita se vuole far contare di più il voto dei cittadini cambiamo la legge elettorale invece di avanzare una proposta di riforma costituzionale che non esiste in nessun altro paese e scardina l'equilibrio tra i poteri dello Stato e riferimento appunto al premierato intanto tra i messaggi che arrivano a Giorgio Meloni già ieri ce n'era uno da parte del direttore di Milano Finanza Alberto Sommella oggi ce n'è un altro possiamo chiamarlo un bis prima di firmare MES e patto ricorda il direttore del quotidiano economico Meloni chiede a Berlino come stanno le vostre banche avete visto oggi l'apertura del quotidiano proprio su questo tema è ovviamente è un tema che rimane in primo piano come in primo piano invece non sta arrivando è già arrivata una nuova formazione politica un'idea politica per il momento un forum indipendenza italiana i rossobruni d'Italia sono già stati ribattezzati nasce indipendenza italiana dell'ex sindaco A.N. Alemanno punta a unire per le europee il dissenso contro Stati Uniti Unione Europea aderisce anche l'ex comunista Marco Rizzo ci sono già due defezioni però Maugno Vaglia per esempio che all'ultimo minuto si è sfilato Meloni così rischia l'assedio a destra ci racconta oggi Flavia Perina di questa nuova formazione politica questa nuova idea politica che viene analizzata un po' da tutti lo fa anche da sinistra Stefano Cappellini che ci racconta come dalla Linke a Siriza in Grecia la fine delle sinistre così radicali da sfiorare la destra estremi che si toccano si potrebbe partire da questo paradosso per anni in tutta Europa le sinistre più radicali o estreme hanno accusato le sinistre di governo di inseguire le parole d'ordine della destra e perdere i consensi proprio per questo siete solo la brutta copia dell'originale era l'accusa ecco perché il popolo non vi vota e siete destinati all'estinzione allora su questo paradosso si costruisce poi un'alleanza che viene letta in maniera ovviamente diversa a Giulia Merlo per esempio sul domani la legge così come forma di dispetto i dispetti di Alemanno a Giorgio Meloni il premierato risveglia i fantasmi della destra con l'ex sindaco di Roma pronto a fondare questa nuova forza politica organizzare anche i comitati del no al referendum mettendo insieme il voto estremo un pensiero in più per Meloni in vista delle europee comunque sia andiamo a sviluppare l'altro argomento invece la guerra tra Israele e Hamas sapete che c'è una battaglia in corso all'interno dell'ospedale di Shifa ci sono i tanki israeliani nel perimetro dell'ospedale lì si combatte una battaglia a tutto campo con i guerriglieri di Hamas anche nei tunnel gli israeliani hanno conquistato i centri vitali dei jihadisti la battaglia è solo all'inizio fa sapere Hamas è stato preso anche il campo rifugiati al Shati dove secondo Israele c'era un posto di comando dei terroristi e recuperate una serie di armi vi faccio vedere questa serie di foto notizie che raccontano come il conflitto si sia già spostato in quei tunnel che vi abbiamo raccontato tante volte e come questa battaglia vada avanti quattro foto che spiegano bene che cosa venga trovata all'interno dei tunnel come si sposti l'esercito israeliano un conflitto che si sposta giù nei tunnel come con i maghi dei robot telecomandati una città sotterranea dove gli ostaggi dove sono nascosti gli ostaggi in maggioranza di loro disseminata anche di trappole esplosive e Raffaele Gena oggi ci racconta come questa sia un'ulteriore difficoltà e come l'esercito stia progredendo in questa missione una missione che però vede forse una buona notizia il fronte degli ostaggi ieri ha sembrato vivere di una svolta con Biden che ha parlato di un accordo vicino per la liberazione di donne e minori la battaglia degli ospedali e poi la drammatica scoperta della fossa comune nel compound dell'ospedale proprio di Al-Shifa come si sta muovendo Biden a parte l'incontro che avrà oggi con Xi Jinping a San Francisco Biden in questo modo avrebbe convinto racconta oggi Alberto Simoni Israele e Hamas intanto a effettuare una piccola tregua cosa che chiedeva da giorni fuori a piccoli gruppi un accordo che prevede il rilascio di 70 persone decisivo l'incontro tra i capi della CIA del Mossad e il premier Catarino il leader americano vede i parenti della Piti poi vola al summit di San Francisco con Xi Jinping stiamo arrivando tenete duro racconta nella retroscena per l'appunto il quotidiano torinese non tutti sono d'accordo ovviamente sull'azione diplomatica di Biden uno di quelli che non è d'accordo sicuramente è il vice di Hezbollah che oggi viene intervistato dal Corriere della Sera da Andrea Nicasso l'inviato a Beirut lo sceico Naim Kassem rispetto al 2006 dice siamo più armati e meglio organizzati e l'esperienza ci racconta che noi adesso possiamo anche vincere un'esibizione di forza tutta questa intervista da parte dello sceico che dice risponde alla domanda per lei il 7 ottobre è stato un atto di terrorismo e lei può calcolare quanti massacri hanno compiuto gli israeliani in 75 anni centinaia di migliaia di palestinesi sono stati uccisi feriti imprigionati solo perché erano proprietari della terra dove abitavano il punto non è il 7 ottobre ma passiamo oltre non ho altro da dire un altro degli intervistati l'ennesimo che vi abbiamo letto che elude però la domanda proprio su questo e anche quella sul riconoscimento dello Stato di Israele stesso l'ultima segnalazione per quanto riguarda questo tema la prendiamo da Fabio Tonacci su Repubblica l'inviato che è riuscito ad entrare nella striscia di Gaza uno dei primi embedded insieme all'esercito israeliano e che oggi ci racconta invece con un altro reportage cosa è successo in quei campi dove era stato organizzato il rave nel deserto accompagnato da uno dei DJ che è miracolosamente sopravvissuto nascondendosi per 8 ore ecco il mio bicchiere il bicchiere eccolo qui lui lo ritrova e lo mostra nelle fotografie che accompagnano questo reportage uno dei tanti reportage che smentisce la massa imponente possiamo dirlo di fake news che sta girando in questi giorni circa l'avvenuta strage qualcuno la sta mettendo in dubbio insomma da giorni altre segnalazioni di cronaca prima di dare la linea al telegiornale abbiamo parlato di quei due ragazzi che sono scomparsi Giulio e Filippo l'auto è stata avvistata questa è la notizia i genitori chiedono che tornino a casa ma per il momento a parte scandagliare il Brenta non si hanno troppe notizie positive l'altra arriva da Padova poco distante le mamme arcobaleno con la procura che ci ripensa sui figli adesso decide la consulta o meglio il tribunale dovrà stabilire se dare la parola alla corte costituzionale perché formalmente è stato il PM a chiedere al giudice proprio questo con Ellie Schlein che chiede una legge ad hoc e ancora la cronaca andiamo su un mattino quella neonata morta di botte agli arresti sono finiti i genitori succede a Santa Maria a Vico dopo due mesi una svolta nelle indagini ora sono accusati di omicidio e maltrattamenti la fine della bimba di 45 giorni che è stata picchiata curata con lo strutto e mai portata dal medico chiudiamo con la terribile vicenda di questa ragazza la tredicesima vittima dell'anno nel Trevigiano morta sul lavoro stritolata purtroppo da un macchinario da pagina 10 del Gazzettino Fabio Angelicchio ben ritrovato buongiorno tante notizie nel telegiornale anche questa mattina sì Marco grazie buongiorno allora partiamo proprio da quest'ultima notizia che hai letto perché sono pensate 559 i morti sul lavoro dall'inizio dell'anno naturalmente parleremo di questo e non soltanto nel telegiornale parleremo soprattutto di quanto sta accadendo a Gaza perché l'esercito israeliano è entrato nell'ospedale al Shif dove ritiene che ci sia un centro di comando di Hamas e poi avremo però anche altre notizie come lo sciopero che resta convocato per venerdì prossimo ieri nulla di fatto nell'incontro tra i sindacati e il ministro Salvini ma ci sono anche altre notizie ve le diremo tra poco adesso diamo subito la linea a Paolo Sottocorona che come sempre ci anticipa che tempo ci aspetta nelle prossime ore a te Paolo buongiorno grazie Fabio buongiorno sull'Italia ci sono questa specie di scaletta sono delle nuvole distese in senso est-ovest in parte rappresentano la coda la parte terminale quella più debole di perturbazioni di strutture nuvolose più compatte che si trovano verso est sulla penisola balcanica e poi quelle perturbazioni che abbiamo visto passare a nord dell'Italia si sono anche loro allontanate e c'è una specie di pausa vedete non bel tempo ma sicuramente meno nuvole meno piogge sulla Francia sulla Germania sul Belgio sull'Inghilterra ma sul vicino atlantico di nuovo una macchia molto bianca significa molto intensa e bisognerà vedere che strada vuole prendere la previsione per oggi resta questa situazione appena un po' incerta nel senso che non è alta pressione tempo del tutto stabile questo porta qualche annuvolamento giornate un po' grigie insomma avete visto anche ieri nuvole che passano quindi un po' di sole un po' di nuvole eventualmente sulle zone del centro e del sud peninsulare deboli precipitazioni vedete come sulla penisola balcanica c'è ben altro tempo ma noi abbiamo questo tempo appena un po' incerto poi domani situazione che vede sempre qualche debole pioggia un po' di nuvole anche delle schiarite al nord però appunto di fenomeni intensi non ce ne sono arriviamo alla giornata di venerdì in cui c'è forse qualche pioggia in più sulle regioni meridionali ci dovrebbe essere fra venerdì e sabato un certo cambiamento temporaneo perché durerà piuttosto poco del tempo e anche delle delle temperature ma fino a venerdì diciamo di questo non se ne ha traccia chiudiamo velocemente con le due flash le temperature minime di questa mattina riprese un poco sono risalite un poco al centro e al sud ancora relativamente basse al nord ma rispetto a ieri qualche zona ha guadagnato qualche cosa recuperato come volete lo stato dei mari per chiudere sono ancora mossi o molto mossi almeno il tirreno poi vedete fra il mar Ligure il mare di Corsica il mare di Sardegna c'è questa zona in rosso che indica un mare agitato quindi lì di vento e di mare di onde ce ne sono ancora se volete ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angelicchio a più tardi